c'è caldo amici non molto molto caldo qua in sicilia ho ritrovato il caldo bestiale tendiamo un attimino insomma che qualcuno si inconnetta condividete a più non posso che molto importante quello che dirò questa sera perché se qualcuno getta nello sconforto i cittadini prospettando il tso noi li buttiamo nella calma gli facciamo recuperare la giusta misura delle cose ma no così tanto per ai sensi di legge per fortuna qualcuno di noi conosce il diritto quindi sa dove intervenire per impedire la degenerazione ulteriore rispetto a quanto succede perché stiamo mettendo mano al contrattacco amici perché non è che ci basta soltanto resistere essere resilienti quello pure ovviamente ma è il momento di passare al contrattacco e questa sera quindi vi dirò come resistere a queste tensioni che vorrebbero attraverso il tso il trattamento sanitario obbligatorio costringere le persone a sottoporsi a delle cure bla 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 per che cosa per il coronavirus per il covid 19 per il sars cov 2 bene zaya che è il presidente della regione veneto ogni regione gestisce la sanità voi sapete che il servizio sanitario nazionale poi viene ripartito nelle regioni e quindi in materia di competenza regionale zaya che era quello che addirittura inizialmente non voleva chiudere il veneto e che poi contraddicendosi ritenne di dire si doveva chiudere prima e che poi addirittura si doveva chiudere meglio e ancora e ad oltranza oggi sostiene che chi si rifiuta delle cure debba essere sottoposto a tso lo ha detto lo ha detto amici lo avete sentito quindi non siamo più nel campo delle supposizioni io ve lo dicevo mesi fa al solito mi tocca fare un po il presuntuoso sono stato il primissimo a sostenerlo e a spiegarlo ma non da una diretta e basta questo pure ma proprio dalle telecamere di bio blu intervistato da claudio messora e da virginia camerieri ho avuto la possibilità di spiegare proprio i passaggi giuridici che avrebbero consentito questa stortura ennesima stortura qualcuno ha detto disse all'epoca no ma no sicuramente non succederà ma che esagerato ma non non diciamo cose stra esagerate ma amici quando vi dico che il film io l'ho visto tutto non è che ho preso la macchina del tempo e vengo dal futuro assolutamente no ma il film l'ho visto tutto perché so quello che vogliono fare ma perché lo hanno già dichiarato lo hanno già detto negli anni e da decenni che persone come me ripetono le stesse cose molti si stanno svegliando in questo periodo siamo già nella fase attuativa di un programma che è stato elaborato nei decenni ma mica ieri che in buona sostanza non è altro che la continuazione del progetto sanitario del nazismo se ci pensate bene purtroppo ricevo continuamente telefonate ma come devo fare ho messo il non disturbare che poi non è che mi disturbano sono persone che non sanno che sono in diretta ma con il rischio che poi si non si senta si sente datemi conferma perché ho notato che ogni volta che ricevo una telefonata non si sente datemi conferma che si sente e condividete 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 cacchio condividete è molto importante che voi condividiate perché perché molte persone sono gettate nello sconforto e per le cose che invece io dirò noi aiuteremo molte persone a respirare un po di speranza i miei amici cari o per un motivo per un altro io devo farmi una stanza completamente blindata insonorizzata incapsulata con un cavo di rete con tre quattro tipi di connessione diverse dove un un marchigegno intelligente non so se lo so se esiste e mi filtra il tipo di connessione per darmi la banda sufficiente per non essere interrotto perché ultimamente quasi tutti i miei video vengono disturbati cambiando rete cambiando telefono tablet puntualmente speriamo che soltanto così un caso allora si sente grazie quindi condividete perché dobbiamo dare speranza soprattutto ai veneti soprattutto per non incoraggiare poi i governatori delle altre regioni quindi non sono solo i nostri amici veneti che corrono il rischio ma siamo tutti noi perché si mettono in campo dei modelli che poi vengono emulati da altri presidenti della regione quindi oggi viene proclamato tutto ciò in veneto domani tutto ciò viene fatto poi in sicilia in lombardia eccetera ma prima di cominciare stasera permettetemi di introdurvi con un po di buon umore perché perché mi rendo conto che recentemente tra lacunial scardovelli e carbone un attimino ho dato l'impressione di essere un pochino incazzato confesso sì sono stato incazzato tuttora lo sono voglio dire però capisco che occorre mantenere la calma anche in questi momenti ma sono fatto di carne ed ossa sono un essere umano come voi e quando quindi da una parte c'è uno che mi inganna acunial dall'altra c'è uno che invece trama all'ombra scardovelli e uno che mi insulta pubblicamente carbone amici non lo so ma dico ma tutti santi siete solo solo io sono quello che allora voglio recuperare vi voglio fare perdonare da voi con qualche piccola battutina ci trovavamo prima di subire il fermo illegittimo lì a roma davanti all'ingresso di r2020 uno di noi c'è uno che era nel nostro gruppo era vestito in un modo che sembrava della digos per cui alcune persone che si avvicinavano mi facevano segnare mi dicevano c'è la digos e dico dove dove siamo tre noi e mi indicavano un amico vestito ci faccio no no quale digos è uno nostro amico c'è insomma poi arriva veramente la digos e succede quello che voi tutti sapete insomma quando la realtà supera la fantasia un'altra cosa eravamo a rimini al congresso con pappalardo e tante altre persone vi farò una relazione dettagliatissima già lunedì dove in diretta vi spiegherò tutti i passaggi tutto quello che è successo nella massima chiarezza con i riscontri che ci sono bene a un certo punto mi arriva un messaggio che mi dice massimiliano vai via vai via perché praticamente sei in un tempio massonico dico perché perché c'è la pavimentazione a scacchi bianco nero mi sono messo a ridere detto guarda che c'è semplicemente se tu vai in tanti posti c'è la pavimentazione nera e bianca perché vi fu un periodo che fu una grande moda possibilmente insomma ma lì non c'è alcuna cosa di massoneria e mi viene da ridere ogni volta che mi viene da scaccolare allora io mi scaccolo con piacere perché non per mancanza di rispetto vostra perché questo non è un simbolo massonico come questo non è un simbolo cioè niente siamo persone ci grattiamo e quando noi guardiamo in alto in basso eccetera non stiamo mentendo semplicemente c'è chi ha problemi di cervicale come me semplicemente c'è chi sto vedendo me mica vedo voi se io io ho una grande capacità di guardare negli occhi le persone chi mi conosce sa benissimo che io guardo dritto nelle persone e non fingo ma qua io a chi devo guardare negli occhi ho un buco nero che tra l'altro mi infastidisce preferisco guardare più che altro la mia fisionomia e i vostri commenti perché è fatto così il monitor quindi insomma ridiamoci su su certe battute allora l'ultimo appello condividete perché adesso smontiamo Zaya Zaya sperando che la batteria duri ok Zaya non può fare quello che lui dice punto primo Zaya non ha il potere di legge per fare un TSO il TSO ai sensi di una legge che la 833 del 1978 conferisce il potere di disporre il trattamento sanitario obbligatorio ad una sola figura al sindaco che ha competenza strettamente sul proprio vaccino territoriale quindi sui cittadini che vivono nel suo territorio lo fa con un'ordinanza motivata che viene preceduta dalla visita di almeno due medici fuori da questo schema Zaya non può fare nulla Zaya non lo può fare non ha potere di inculcare alcunché Zaya è tecnicamente su questo punto impotente potete dirlo tranquillamente a tutti tranquilli amici veneti Zaya è impotente e cari cittadini già da domani mattina andate dai vostri sindaci e dategli una bella carezza da parte dell'avvocato musso andate ai vostri sindaci e dite tranquillamente che l'avvocato musso mi ha detto caro sindaco di darti una carezza sul viso e di dirti che appena sbagli te ne vai in galera e io non lo so se i sindaci veneti saranno lì a guardare al diktat di Zaya uno perché quei i sindaci che non sono con Zaya gli faranno le scarpe e anzi difenderanno i propri cittadini anche per partito preso due quelli che invece sono con Zaya cioè con la lega non tutti sono della corrente di Zaya molti sono della corrente di altri esponenti politici di primo piano che vogliono fare le scarpe a Zaya perché Zaya è sicuramente l'uomo forte del Veneto ma ha una competizione interna che mira a detronizzarlo e questa è l'occasione propizia per toglierci tutti dalle scatole Zaya il quale ovviamente dà l'occasione quindi andate a sostenere tutti gli oppositori interni alla lega di Zaya fate capire che loro avranno il vostro sostegno contro questo signorotto perché Zaya non è un servitore del popolo amici Zaya è una persona che sta utilizzando il popolo per accreditarsi con le multinazionali e candidarsi alla presidenza del consiglio in vista del prossimo rinnovo del parlamento del consiglio dei ministri sappiatelo perché mentre come si chiama salvini non tutti lo accetterebbero perché non ha il profilo dello statista e indubbiamente ha grande seguito è un grande comunicatore un grande imbonitore un grande diciamo pifferaio magico Salvini ma Salvini non è in grado di convincere sull'affidabilità propria nella gestione della macchina amministrativa mentre Zaya viene già dal fatto di essere stato loro dicono un buon ministro dell'agricoltura e di essere un bravo loro dicono governatore della regione veneto quindi lui si sta accreditando per andare a fare le scarpe a conte e a Salvini sappiate i giochi della politica Zaya non prende queste iniziative perché è terrorizzato dal coronavirus lui prende queste iniziative per accreditarsi come prossimo presidente del consiglio mettendosi in mano ai poteri forti quindi state attenti quindi i cittadini veneti devono andare dai loro sindaci ma già da adesso perché sono gli unici perché si da quell'autorità sanitaria locale a cui è affidato il compito di disporre il TSO e gli andate a dire sindaco da che parte stai guarda che di qua non si passa qua non si scherza non è che per due linee di febbre ci togliete i figli di casa non è che per un colpo di tosse perché io mi rifiuto di fare questo e quello è quello che poi che cosa quale sarebbe il tipo di trattamento sanitario a cui andrebbe incontro una persona che starnutisce tossisce o ha due linee di febbre come se non esistesse più l'influenza la febbre la raffreddatura altri tipi di malattie come se praticamente non esiste più niente quindi è chiaro che statisticamente è molto probabile che ognuno di noi almeno una volta all'anno tossisce o ha due linee di febbre è statisticamente no probabile certo che ciò succeda e queste persone quindi che cosa vogliono fare il TSO sui cittadini ma non lo possono fare perché è il potere dei sindaci quindi andate dai sindaci e andate a dire guarda che di qua non si passa e andate a sollecitarli a prendere posizione a ribellarsi a questo dittatore perché è un dittatore uno che dice che nemmeno prova la via democratica la via della moral suasion la via della persuasione uno che taglia dritto sul TSO a chi si rifiuta definendo complottisti tutti quelli che insomma la vedono in modo diverso noi possiamo dire che Zai è invece un complottardo cioè è uno che vive in un complotto è uno che ha eletto un coronavirus banale a malattia del millennio per in realtà restringere i nostri diritti per in realtà condurci a quella che è evidente è una dittatura di uno stato etico sanitario con una uno stato di polizia che vuole impedire la libera espressione del pensiero e persino vuole invadere i nostri corpi ci vuole tutti praticamente presi di forza sbattuti al muro e punti perché Bill Gates lo vuole di fatto è tutto un gioco dei poteri forti amici e i poteri forti non stanno trovando l'argine oggi l'argine i poteri forti sono i sindaci perché dovrebbero cambiare la legge per consentire a Zai o anche al ministero della salute di pungerci con il trattamento sanitario obbligatorio per fortuna il trattamento sanitario obbligatorio non è nelle competenze del governatore regionale ma se dovessero fare una legge nazionale per scavalcare questo limite perché sapete che l'articolo 32 della costituzione al secondo comma dice che in buona sostanza i trattamenti sanitario obbligatori sono vietati tuttavia per casi particolari si può fare una legge perché solo la legge può derogare a tutto ciò per esempio la legge 833 del 1978 è una deroga che brutto numero 666 nel numero dei aumentate o diminuite cacchio ma non mi mantenete su 666 allora dicevo possono derogare attraverso una legge ma prima di arrivare a questa legge devono starci veramente attenti amici e comunque per fare una legge ci vuole molto tempo non è un passaggio semplice comunque la legge può essere può costituire un elemento di discussione a livello nazionale è in grado di intrangere definitivamente i sogni di salvini meloni di tutti di tutti quindi difficilmente porterebbero in parlamento questa legge quindi come si possono difendere si possono difendere con lo strumento del trattamento sanitario obbligatorio per motivi di contagio in questo caso non per motivi psichiatrici in questo caso quindi possono prevedere varie forme per esempio ti dicono stai a casa non uscire se esci già in questo in qualche modo lo hanno fatto il problema che invece ci preoccupa è quella della degenza ospedaliera e quella poi dell'inserimento nel nostro corpo di farmaci anche lì noi abbiamo grandissimi strumenti perché prima di arrivare al tso a te cittadino che mi stai ascoltando per favore superate sto 666 che non lo posso vedere quindi ti devono convocare ti convocano dentro un uno studio medico dati in un ufficio sanitario e a quel punto che cosa succede ti dicono che fatti ti vuoi sottoporre volontariamente o dobbiamo procedere oltre a quel punto voi dovete dire sì io mi voglio sottoporre volontariamente ma a una condizione io vi firmo il mio consenso informato nel momento in cui mi informate vi dovete dire prima di che cosa si tratta a quel punto il consenso informato lo prendete e dite però siccome non sono in grado di comprendere quello che c'è qua scritto ho bisogno di una consulenza una consulenza dell'avvocato musso e del dottor x oppure dell'avvocato polacco oppure di del vostro avvocato di fiducia attenzione io sto usando un esempio chi evidentemente non ha un avvocato di fiducia non abbia problemi appena riceve la letterina quindi prima che cominci il colloquio prendete contatto io da qua non vi potrò aiutare ma certamente potrò indivirizzarvi ma sicuramente non vi lascerò soli e non vi lasceremo soli tutte quelle persone che già hanno capito che noi siamo la stragrande maggioranza ci stiamo solo organizzando questione di tempo quindi tempo ma dare ma tapperciare tradotto nel siciliano mi devi dare tempo ma arriverò al punto noi dobbiamo essere estremamente consapevoli che loro questi piani non riusciranno a realizzarli per una semplice ragione non ne hanno i numeri non ne hanno la forza ma come cacchio devono fare a farlo non solo il diritto è dalla nostra parte non solo loro rischiano la galera per diversi anni anche decine di anni e stanno giocando veramente col fuoco altro che fuochi di resistenza amici qua dobbiamo andare al contrattacco dobbiamo fare spesare la nostra presenza se necessario ci muoveremo in massa anche nel piccolo comune dove dovesse farsi il tso e invadere le strade in modo non violento in modo pacifico tutto quello ma gli dobbiamo fare capire che c'è un limite a tutto noi non siamo e diciamo animali da sgozzare noi non siamo animali noi siamo persone e abbiamo diritto di sapere abbiamo diritto di essere trattati con dignità e allora nel momento in cui dovessero venire a casa tua caro mio amico veneto o amica veneta e dovessero dirti di sottoporti un certo trattamento intanto te lo devono comunicare per iscritto ma se non dovessero farlo barricati in casa e cerca contatto prima di arrivare ad un magistrato che dispone quello che loro chiedono passano giorni o passano ore quindi ti barichi a casa chiedi aiuto mi raccomando i mitomani non rompetterci le scatole perché sottraete tempo prezioso energie a tutti a tutti gli operatori che lavoriamo gratuitamente senza considerare veramente giorno notte niente ok mitomani quindi via per favore poi avremo tempo anche per affrontare i casi dei mitoni casi seri vi barricate a casa chiamate aiuto e interveniamo immediatamente noi immediatamente immediatamente noi a quel punto siccome non c'è soltanto il trattamento sanitario obbligatorio ma c'è anche l'accertamento sanitario obbligatorio ovvero ti rifiuti di farti prendere la febbre e allora ti dobbiamo fare l'accertamento sanitario obbligatorio cioè dobbiamo verificare se hai due linee di febbre quello non è un trattamento quello è un accertamento sanitario obbligatorio ma attenzione amici nel momento in cui accettate davanti alla prospettiva dell'accertamento sanitario obbligatorio qualcuno dice no vabbè tanto se solo per misurare la febbre vengo io spontaneamente nel momento in cui varcate quell'ospedale sappiate che molto probabilmente come già hanno fatto hanno il trattamento sanitario obbligatorio pronto per cui dopo l'accertamento sanitario se poi non intendete rimanere vi firmano il trattamento sanitario obbligatorio a quel punto serve il parere di un solo medico è l'ordinanza del sindaco quindi dovete stare molto molto attenti non si scherza con queste cose comunque voi ci avvisate dopodiché un avvocato vi accompagnerà un avvocato e un medico vi accompagnerà davanti al servizio sanitario e chiederà l'UMI per rendere concreto ed effettivo il consenso informato ok dopodiché acquisiremo attraverso il consenso informato che poi non sottoscriveremo ma avremo i documenti che costituiranno la prova del reato sarà quella la prova che manderà in galera tutte queste persone perché lì ci sarà scritto praticamente tutta una serie di boiate perché vi garantisco vi assicuro mi ci gioco la carriera la reputazione la diciamo persino la vita che tutto il discorso che i politici pongono a fondamento della loro mossa antidemocratica è una grande cazzata e questo perché noi preferiamo credere alle parole del professore montanari del professore meluzzi del professore tarro e di tantissimi altri ecco perché accanto a mille avvocati per la costituzione che saranno i nostri car armati quando vi dico non vi preoccupate cari amici veneti perché verremo in soccorso vostro mica potrò venire io verranno persone uomini e donne del vostro popolo che sono degli avvocati e che sono attrezzati per rappresentare i vostri interessi e per non costringervi a subire qualcosa che non meritate assolutamente voi non meritate di fare la fine di quei polli a cui vengono somministrate delle sostanze per gonfiare ed essere condotte al macello quello che è successo a bergamo non deve più succedere a bergamo attraverso dei protocolli sanitari incongrui sbagliati sono state uccise delle persone sono stato il primo a rilevarlo sono colui sono quello che ha fatto scoprire ok perché fino a prova contraria l'esposto alla procura della repubblica o meglio al procuratore della repubblica di bergamo fino a prova contraria l'esposto su quello che stava succedendo sulle cremazioni delle bare per occultare il fatto che le morti non derivavano dal covid 19 ma da altro quindi quell'evento ha portato poi successivamente alle autopsie dalle autopsie si è scoperto a livello nazionale che non vi era alcuna polmonite interstiziale bensì la tromboembolia perfetto non dico ringraziatemi perché io l'ho fatto di cuore non l'ho fatto per essere ringraziato ma ora sto dicendo tanto quanto guardatevi state attenti in veneto perché vuol dire che il veneto è la regione su cui stanno con si stanno concentrando le maggiori energie da parte di qualcuno perché perché il veneto tradizionalmente è una regione forte è una regione attenta i veneti hanno le palle tante i veneti non se la fanno fare da nessuno i veneti sono un popolo italiano che nella storia ha dimostrato come si possa risollevare di come si possa camminare a testa alta e voi veneti non vi dovete fare fregare da un governatore che non guarda più ai vostri interessi semmai lo abbia fatto ma guarda solo agli interessi di chi gli può dare una poltrona ancora più al sole mira lui per il governo dell'italia e noi dobbiamo stare attenti ed è una battaglia che condividiamo perché voi veneti oggi subite quello che noi domani subiamo in sicilia quello che noi domani subiamo in tutta italia quindi massima soledità ai veneti che non siete soli e loro quello che predicano non possono farlo non lo possono fare giuridicamente non lo possono fare ok quindi ai mille avvocati per la costituzione abbiamo già affiancato il progetto mille medici per la costituzione ok e come la mettiamo che ora stiamo dando corpo al popolo con le sue baionette che sono quelle della ragione della ragionevolezza del confronto dialettico del diritto noi siamo una civiltà giuridica noi siamo la culla della civiltà non faremo la fine dei polli caro zaia vuoi un tso ci tieni davvero tu avere un tso io fossi te non me lo augurerei non ci terrei mai veramente per nulla un tso perché se proprio voi un tso saremo in grado di dimostrare che da tso siete tutti voi malati di potere che pensate solo alla vostra carriera personale e che vi dimenticate che il popolo vi è stato affidato in uno spirito di servizio non che vi siete svegliati uomini di potere quando andate eravate nessuno andavate a fare la campagna elettorale vi prostravate davanti al popolo chiedendogli il voto dicendogli che avreste voluto servire il popolo è solo quello adesso che avete la seggiola vi siete venduti l'anima vi siete venduti l'anima perché l'anima di un politico è vero onesto fa solo l'interesse dei cittadini mai va contro il popolo e invece vi siete messi dalla parte dei più forti dalla parte delle multinazionali vi siete venduti l'anima e ora vi presenteremo il conto non è mica vi prenderemo e vi appenderemo qualcuno lo pensa pure cioè quando saremo spalla al muro vi verremo a prendere fin sotto casa e vi appenderemo per le strade qualcuno lo pensa e qualcuno già lo dice lo predica io non sono di questa via l'ho sempre dichiarato no vi garantiremo il giusto processo vi garantiremo un trattamento carcerario degno della nostra civiltà della nostra civiltà giuridica vi garantiremo le lenzuola pulite i rotoli di carta igienica il bagno in cella ma vi garantiamo un giusto processo vi porteremo alla sbarra vi faremo condannare come legge prevede perché siete dei corrotti siete marci dentro ma soprattutto violate il codice penale dovete pagare il conto questo deve essere il messaggio rivolto ai sindaci che andrebbero a fare una porcata del genere ai governatori delle regioni questione di tempo ma la ruota gira oggi siete voi lì ad esercitare il potere corrotto e corruttore ma domani non ci sarete voi domani ci saremo noi e vi presenteremo il conto vi schiafferemo dove meritate nelle patrie galere con il giusto processo ripetisco con le lenzuola pulite perché noi siamo diversi da voi voi parlate bene e agite male noi parliamo bene e agiamo meglio le la civiltà giuridica per noi un valore non intendiamo assolutamente retrocedere di un millimetro dallo stato di diritto anzi vogliamo conquistare tutte le posizioni perse ma questa partita non finisce con e zaia che non viene rieletta e basta ma con zaia a processo per corruzione perché queste iniziative sono evidentemente mosse da interessi collaterali poi zaia da ora in poi a 90 giorni di tempo per denunciarmi per diffamazione e avremo il piacere di indagare fino alla settima generazione su quello che fanno queste persone alle nostre spalle e sulla nostra pelle e noi dovremmo persino tacere davanti a persone che sono state elette con un programma e poi ne realizzano un altro zaia se ci tiene tantissimo il tso noi lo faremo a lui un trattamento sanitario obbligatorio consistente nel prendersi un calmante come dire zaia ma calmati lo capisci quello che dici lo capisci quello che dici lo capisci come butti nello sconforto nel panico non solo i tuoi cittadini veneti ma tutti gli italiani nel momento cioè oggi alla notizia che zaia vuole fare il seo per come ha dichiarato per chi presenta due linee di febbre non vuole sottoporsi alla cura ho avuto la reazione stizzita di persone che vivono qui in sicilia come dire questi nazisti stanno arrivando ci sono persone che si suicidano se credono veramente in queste cose ci sono persone che perdono la speranza ci sono persone che si lasceranno andare alla violenza più bieca ma lo capisci zaia quanto è grave il messaggio che lanci ma lo capisci il delirio che ti coglie ma forse se non lo capisci allora vuol dire che non sei adatto a fare il presidente di una regione importante come quella veneta dovresti assolutamente dimetterti ma domani mattina hai detto lo hai detto con la tua voce lo si è sentito l'hai detto apertamente che stiamo vincendo noi i complottisti quindi bisogna cioè ma come per smentire i complottisti devi smetterla di fare quello che noi complottisti e noi non siamo complottisti diciamo quindi tu dici che noi siamo complottisti perché sosteniamo che tu vorresti fare il tso e per battere i complottisti cosa dici che vuoi fare il tso ma ti rendi conto di quale in quale diciamo in quale buio tunnel mentale ti sei andato a infugnare zaia ma lo capisci la gravità di quello che hai detto ma tu lo capisci che così le persone vanno a mettere l'olio alle diciamo a come si chiamavano quelle le ghigliottine vanno a oleare i meccanici cioè ma 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 vi volete fare tagliare la testa ma di che cacchio stiamo parlando ma persone come me che si impegnano con grande passione per battervi certamente ma sul piano democratico a noi create grande difficoltà perché la gente poi a un certo punto non ci ascolta più fate testa propria perché sapete cosa ci dicono ma avvocato ma tu parli 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 ma qua questi stanno andando avanti e io sicuramente non me la farò fare né da zaia né da zingaretti né da bolaccini né da musumeci né da chiunque altro e quando io gli dico sì ma guarda la violenza genera violenza la violenza non provoca nulla quelli dicono guarda io morto per morto il primo però che muore deve essere lui questi sono gli argomenti più ricorrenti di gente assai determinata stiamo attenti non voglio che questi veramente vogliono condurci alla guerra civile ma che padre siete zaia ma che padre sei ma che ma non hai una famiglia ma non ci pensi al benessere dei tuoi genitori dei tuoi parenti amici ma del tuo popolo ma ne hai cuore noi siamo veramente a un passo da il burrone qualcuno rileva no noi già nel burrone siamo caduti dobbiamo solo aprire il paracadute se ce l'abbiamo e questi ancora insistono provocatoriamente mentre zangrillo dice che il covid 19 è clinicamente morto questo ci viene a rompere le scatole del vaccino obbligatorio di questo di quell'altro ma vi rendete conto di come ci prendono in giro amici ma vi rendete conto ecco perché vi dico condividete perché se solo una persona si salva dalla depressione dal suicidio questo video ha un senso se solo una persona trova il coraggio di andare sotto la porta del sindaco e con fare non violento e con fare assolutamente distinto ed ed equilibrato dice signor sindaco io ti ho creduto io ti ho dato il voto ora siamo alla prova del nove ora mi devi dimostrare al di là del piano regolatore generale di togliere la spazzatura per le strade dei servizi efficienti eccetera adesso mi devi dimostrare da che parte stai caro sindaco perché qui c'è la mia vita aggredita una volta ci invadevano i barbari una volta avanzavano le truppe naziste una volta quello oggi il grande pericolo per le nostre vite sono questi camici bianchi che ci vogliono pungere tutti ci vogliono ammalare ci vogliono costringere allo stato etico sanitario alla dittatura del camice bianco con praticamente i trattamenti sanitari obbligatori come routine come regola vogliono normalizzare ve l'ho sempre detto chi mi segue dall'inizio ricorda che a loro non interessa tornare alla normalità loro vogliono normalizzare questa dittatura sanitaria perché hanno fondato uno stato etico con il primo dpcm di conte che è un abuso totale nella forma e nel contenuto hanno instaurato attraverso lo stato di polizia di fatto uno stato etico sanitario questo è quello che stanno facendo solo questo vogliono e se noi questo ora l'abbiamo capito e siamo sempre di più è il momento di svegliarci e di andare già da domani mattina nei municipi dal sindaco a dire sindaco che intenzioni hai di rispetto a questo fanatico a questo integralista questo talebano di zaia che vogliono questi ayatollah con tutto il rispetto diciamo persino dei talebani e persino degli ayatollah insomma che che intenzione hanno questi personaggi di fare cosa nella loro vita qual è il fondo qual è il limite sono senza fondo queste persone sono senza limite ogni giorno che passa si fanno sempre più invadenti nella nostra vita e se ne escono dicendo che poi ci sono quelli che sono i complottisti davanti al complotto evidente davanti lo dicono lo dicono amici lo dicono quindi ai mille avvocati per la costituzione presto si affiancheranno e sono già tanti i mille dottori medici per la costituzione cittadini non vi lasciamo soli nemmeno uno rimarrà indietro ma per davvero non vi lasceremo soli verremo a migliaia a centinaia a migliaia tutti quelli che potremo sotto dove succedono queste cose non vi lasceremo soli amici non vi è benedetto benedetto quando è avvenuto lo spiacevolissimo fatto di dario ora lo possiamo dire perché è superato in quei momenti non lo si poteva comprendere benedetto perché abbiamo aperto gli occhi perché io aperto gli occhi non so oggi insomma se sarei qui con voi ma abbiamo aperto gli occhi di tutti e per fortuna dario che sta bene e si è ripreso e persino lui contento perché dice se questa mia storia può essere utile almeno avuto un senso almeno avuto un senso nessuno subirà quello che ha subito dario nessuno lo subirà e fra di voi cominciate a incontrarvi a frequentarvi scambiatevi i numeri perché se boicotteranno la rete attraverso la censura di whatsapp di facebook o qualunque altra cosa scambiatevi i numeri personali coltivate contatti personali segnatevi i numeri di telefono sulla carta gli indirizzi conosciatevi conoscetevi tutti vi dovete conoscere fra di voi la vera rete deve essere una rete del popolo una rete popolare che va oltre internet perché se ci spengono internet non ci spegneranno tutti noi avremo in modo di comunicare faremo le radio clandestine amici parleremo con i megafoni viaggeremo nelle montagne non ci arrenderemo assolutamente ma dalla resistenza amici dobbiamo passare al contrattacco dalla resistenza dobbiamo passare al contrattacco io non mi accontento di resistere ho le forze per garantire me la mia famiglia i miei amici il mio territorio tutto quello che volete perché state tranquilli che qua a Ravanusa nessuno subirà un trattamento sanitario obbligatorio non si permetteranno proprio vedranno un popolo ribelle perché dopo quello che è successo a Dario Ravanusa ha preso posizione Ravanusa si è schierata dalla parte di Dario a diciamo numeri stratosferici non così e ora quindi nei nostri territori qua questo non succederà e nei vostri territori questo non succederà ma dovete essere voi a volerlo amici non dovete aspettarvi nessuno che venga col cavallo bianco della gloria a salvarvi dovete essere voi a impegnarvi anche perché non sarebbe corretto pretendere dagli altri quello che potete fare voi in prima persona e prima di chiedere che cosa facciamo tutti chiedetevi voi cosa fate per il vostro prossimo per il vostro prossimo per voi stessi per i vostri figli voi cosa fate in prima persona la prima domanda principe deve essere ma io in tutto ciò cosa sto facendo ognuno può fare tanto può fare poco ma può essere tutto dovevamo adottare la logica della vedova a lobolo cioè quella vedova che nel Vangelo prese aveva un soldo solo ma era tutto quello che aveva e lo mise lì in offerta e cosa vale di più chi dà tutto quello che può o chi dà un po' del tanto che ha ognuno può fare veramente tanto e anche se può fare poco ma fa tutto quello che può ha fatto tutto amici e quando ciascuno di noi ha fatto tutto la provvidenza amici la provvidenza subentra ma si mette in campo si mettono in campo delle energie che terrorizzano questi assatanati questi deliranti che si sono ormai divisi i campi per confonderci tutti c'è chi ispira un certo gruppo chi ne ispira un altro chi invece è annidato nel potere ma sono tutti riconducibili alla stessa cosa noi siamo l'umanità l'umanità è più forte del diabolico noi ci rescatteremo noi vinceremo e lo stiamo già facendo perché ogni giorno si svegliano sempre più persone la diretta amici non si è staccata oggi meno male la stessa connessione lo stesso telefono meno male meno male adesso noi ci salutiamo perché sono stanco sono veramente stanco ma non stanco stanco che non ho più voglia di fare tante cose no stanco che mi devo fare una dormita mi faccio una dormita e domani di nuovo punto e da capo non vi preoccupate irriducibili noi siamo gli irriducibili più di così non ci potrete fare ci avete striturato il cuore al tal punto che è talmente piccolo che non potete più farci nulla ma è di un piccolo infinitamente piccolo che sprigiona un'energia nucleare mi sono spiegato chi è ormai irriducibile e non fatto sopraffare dall'odio vive solo d'amore e noi siamo quelli che spargeremo amore spread love questo è il senso amici siamo quelli che ci incontriamo senza conoscerci e ci abbracciamo e ci vogliamo bene perché per un secondo fine no perché ci fa stare bene volerci bene ed è un qualcosa di magnifico ed è un qualcosa di magnifico che ci ricorda ancora che siamo esseri umani loro che ci vogliono come batterie di polli poveri polli per come vengono trattati amici vi voglio bene a tutti buonanotte vado a letto perché sono veramente crollo mi addormento qua e poi veramente ci mettiamo a ridere tutti zaia preparati perché se davvero ci tieni molto dove cacchio è l'obiettivo zaia se ci tiene davvero molto al tso cioè ma davvero davvero molto io ti sconsiglierei di no se ci sarà un solo tso quello non sarà quello fatto ai cittadini lo faremo a te faremo un trattamento sanitario obbligatorio di una persona che ha deliri di nonnipotenza che si può configurare tranquillamente come una patologia psichiatrica a noi piacerebbe che addirittura il tso fosse totalmente abolito e però è chiaro che davanti a un hitler perché questo tu sei davanti a un hitler hanno cremato i corpi a bergamo cioè chi è che cremava le persone chi le cremava le persone il secolo scorso chi chi utilizzava la sanità per imporre un nuovo regime per aiutare la vita umana eccetera chi chi faceva i tso il secolo scorso per questi motivi politici e sanitari chi li faceva hitler bene voi siete i nuovi hitler ai nuovi hitler noi non daremo spazio noi non saremo mai nazisti noi ci ribelleremo il potere come vi è stato dato ve lo toglieremo buonanotte a tutti vi voglio bene a tutti buonanotte grazie a tutti